Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura, ho realizzato questo video innanzitutto per scusarmi del fatto che non sono più riuscito ad aggiornare la serie come scegliere l'hardware ma purtroppo è un periodo in cui sono abbastanza impegnato e quindi per il momento sospendo questa serie e la porteremo avanti solamente quando avrò più tempo libero però insomma cerco di realizzare un altro tipo di serie e la dedico alle basi dei linguaggi di programmazione ed in particolar modo al linguaggio C che è un po' la base di tutti gli altri linguaggi come possono essere il Java, il C++ insomma imparando il C che è un linguaggio davvero rigoroso e anche abbastanza difficile da imparare a pieno avrete le basi per padroneggiare quasi qualunque altro tipo di linguaggio di programmazione ed inoltre un'altra cosa molto importante del C è che ci permette anche di interagire a un livello medio-basso con il sistema operativo e sfruttare tutte le sue chiamate di sistema per il momento ci dedichiamo a programmare in C con Windows ma naturalmente il codice è sempre quello e soprattutto per programmi così semplici che non fanno uso appunto delle chiamate di sistema del sistema operativo lo stesso codice può essere tranquillamente portato sia su Mac che su Linux e magari in qualche video successivo vedremo anche come compilare il codice con Linux comunque cercheremo di partire proprio dalle basi e poi per step di continuare a crescere fino a realizzare programmi sempre più complessi e cercare di capire sempre meglio come appunto padroneggiare questo linguaggio di programmazione prima di partire e vedere il primo esempio vi faccio vedere questo programma qui che useremo come riferimento e permette di compilare il codice poi capiremo anche cosa vuol dire compilare il codice senza dover importare il compilatore e insomma ci permetterà di scrivere e vedere i risultati immediatamente comunque la prima cosa che dovete fare è aprire il vostro browser e scrivere dev c++ su google e vedete avrete a disposizione questo risultato qui di SourceForge la Huawei Edition basterà cliccarci e dovrete semplicemente scaricare e installare il software che sarà immediatamente pronto per l'utilizzo noi naturalmente abbiamo già tutto aperto e possiamo dedicarci a scrivere il primo programma insieme naturalmente la cosa che vi consiglio è di esercitarvi insieme a noi e magari provare cose nuove in completa autonomia così da capire bene quello che si sta facendo comunque basterà schiacciare CTRL N e appunto aprire l'editor per cominciare a programmare adesso comincerò a scrivere un po' di codice e poi vi spiegherò che cosa abbiamo fatto e poi vi spiegherò che si sta facendo ecco qua questo è il primo programmino che possiamo produrre con le conoscenze che abbiamo a disposizione naturalmente per molti di voi non potete sapere naturalmente quello che ho scritto come non lo sapevo neanch'io la prima volta che mi sono affacciato al linguaggio C e comunque nel corso delle puntate cercheremo di capire sempre meglio quello che facciamo in questo caso la scritta in verde che potete leggere cioè include stdio.h andiamo semplicemente a importare un file header questo file ci permetterà di accedere ad alcune funzioni che sono ad esempio quella che potete vedere la printf e questa funzione non farà altro che stampare la stringa di caratteri che le abbiamo appena ordinato di stampare come nel nostro caso amici di tecnologiasuomisura.net e questa sequenza cioè questo backslash e n serviranno solo a dire al compilatore che dopo aver stampato ciao amici di tecnologiasuomisura.net bisognerà andare a capo mentre questo return 0 è completamente facoltativa la sua presenza può esserci come non esserci ma è buona programmazione metterlo proprio perché in certi casi il main che è la procedura principale dovrà comunque sempre cioè può essere sfruttato il valore che ritorna quindi nel nostro caso mettiamo return 0 e altra cosa da notare è che questo il main cioè la procedura principale dovrà essere sempre presente in un programma scritto in C quindi non si può prescindere da una procedura definita main e in questo caso non ci sono argomenti ma comunque capiremo sempre meglio come poter andare a sfruttare tutti gli argomenti che si possono assegnare al main per dare dei valori determinati comunque non voglio mettervi in confusione quindi accettate quello che ho scritto comunque se andiamo a compilare ed eseguire il codice premendo F11 o cliccando su questo bottone in questo caso si devo lo salviamo in C possiamo tranquillamente o se no lo chiamo esempio salviamo come potete vedere da terminale ci appare la stringa che le abbiamo detto di stampare cioè ciao amici tecnologiasumisura.net il programma è andato a capo e ha finito la sua esecuzione in pratica prima di chiudere vi spiego vagamente quello che è il compilatore il compilatore non è altro che un altro programma che converte il file di testo che abbiamo creato in un codice binario che può essere interpretabile dal sistema operativo e che appunto la macchina può eseguirlo per eseguire appunto le funzioni e le istruzioni che gli abbiamo detto di eseguire quindi andrà a importare tutte le funzioni che gli abbiamo detto di importare in questo caso quelle di input output e poi vedremo nei filmati successivi cosa si può fare e in questo caso gli abbiamo solamente detto di stampare questa stringa di saluti comunque questo video è solamente una prova per capire anche se questo tipo di tutorial vi può interessare fateci sapere per adesso saluto tutti e ci vediamo alla prossima